Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video tag perché sono stata taggata da Betty82, quindi dalla mia Makeups Angels, quindi un grossissimo bacio a Betty e mi ha ovviamente incuriosito questo tag e essendo stata taggata lo faremo subito, subito, ovviamente non dimenticate di guardare giù nell'info box perché, passaparola, mandatemi dei segnali, mandatemi una lettera, una consonante, aiutatemi quando faccio questi video così. Giù nell'info box troverete il video di Betty, quindi controllate sempre nell'info box. Andiamo alle domande. Prima domanda, quanto tempo dedichi alle pulizie di casa? Allora, prima li facevo soltanto in esclusiva la mattina. Poi invece da quando c'è stata questa quarantena io li faccio quando ho tempo, tipo tra virgolette, nel senso che io li faccio di mattina. Poi quello che mi rimane, non mi ammazzo, tipo a correre, a fare... No, li faccio di pomeriggio. Come ad esempio il cambio stagione, ho una settimana che la devo fare, ho le scatole in mezzo ai piedi ma ancora non l'ho fatto. Perché non ho tempo, in poche parole, e quindi li devo ancora fare. Pulisci solo tu casa? No, assolutamente. Perché io dico anche facendo parte di un gruppo di quattro persone, anche gli altri devono collaborare. E molto spesso ai miei figli faccio pulire la scala, che sono quattro rampe di scala, quindi con tutte le ringhiere, eccetera, eccetera. Quindi loro devono pulire pure. Quindi non pulisco solo io. Poi ti capita di tralasciare qualcosa? Sì, per quanto riguarda le parti alti dei mobili, perché sia della cucina che della stanza da letto, che altri tipi di mobili abbastanza alti, perché io soffro di vertigine e quindi riesco a malappena a salire la scala. Quindi siccome non ci arrivo, automaticamente li lascio agli altri che li devo ricattare e poi me li fanno. Ovviamente perché vinco sempre io. Poi, cosa non trascuri mai? No, vabbè, non c'è niente che non trascuro mai. La mia giornata è fare letti, lavare i piatti, pulire a terra, lavare i bagni. Queste sono le cose che faccio tutti i giorni, tutti i giorni. La scala la faccio tipo due volte a settimana, due o una volta a settimana. Poi, hai mai pensato di non voler più pulire? Ti annoia farlo? Allora, se io non pulisco, non lavo i piatti, o per caso un giorno rimango fuori, l'immunizia è tipo così. Allora, loro li tolgono le cose in giro, tutti, dal papà ai cicciobelli. Di norma li tolgono, però sono molto più sì, ora, sì, un po', un secondo, devo fare questo, sto guardando questo. Dopo li fanno. E a me secca, quindi io li tolgo subito. Però capita che se io non faccio qualche cosa, lì rimane. Mi è capitato, qualche volta mi è capitato. Poi ovviamente c'è qualcuno che si inchiezza e inizia a togliere le cose o a buttarle, quindi gli altri due si alzano e tolgono le cose in giro. Poi, quello era per quanto riguarda casa. Poi, lavoro. Ti piace il tuo lavoro? Io prima lavoravo, facevo il mercato, sì, mi piaceva, devo dire che mi piaceva. Lo cambieresti mai? Sì, perché certe volte è un po' pesante lavorare quando vengono alcuni clienti. Da quanto tempo lavori? Io ho lavorato per 10 anni, anche di più. Poi mi sono fermata perché ho avuto i ragazzi, poi ho ricominciato, comunque 10 anni su per giù. Quanto tempo ti occupa il lavoro? Tutta la mattinata. Per quanto riguarda il mercato, io mi alzavo alle 5, alle 6 e mezza eravamo fuori e poi tornavamo all'1 e mezza. Poi ovviamente l'unica si finiva, si cucinava e poi si andava all'ingrosso. Spesso capitava ogni 2-3 giorni, quindi era abbastanza particolare. Cosa avresti voluto fare? Allora, prima avevo altre esigenze. Lavoravo, mi piaceva tra virgolette quello che facevo e tutto. Invece adesso che sono nel mondo del make-up, mi piacerebbe tantissimo frequentare la scuola di make-up per diventare una make-up artist, non per fare chissà che cosa, ma è una cosa mia personale, per sapere come devo sfumare, per sapere determinate cose per quanto riguarda il mio viso, la mia tipologia, eccetera. Poi, YouTube, ci sono varie sezioni qui. Cosa non ti piace di YouTube? Allora, la cosa che non mi piace di YouTube è che le persone hanno una specie di forma di razzismo nei tuoi confronti, perché avendo un canale piccolo, nessuno si aggrega a te, nessuno ti nomina, nessuno ti considera. E questa è una cosa che mi dà fastidio, perché all'inizio, molti anche YouTuber, adesso famose, hanno fatto gli scrittori cambi, sapete tutti all'inizio, qui c'è stato, gli scrittori cambi, scrittori cambi, scrittori cambi. Molti hanno sputato nel piatto dove hanno mangiato, infatti io ho anche una conversazione con una ragazza che fa video su YouTube che mi ha fatto questa cosa scritta ricambi quando, diciamo, non se la calcolava nessuno. Invece adesso è famosissima e quindi se la tira, si fa, per me può anche tirarsela da qui fino all'eternità. A me poco interessa, perché io la mia vita ce l'ho qui, non ce l'ho su YouTube, quindi questo a prescindere. Però mi dà fastidio il fatto di snobbare alcune persone. Questa è una cosa che odio in assoluto, ma non la sopporto anche nella vita normale, perché loro non danno spazio, non danno visibilità anche ai canali più piccoli perché pensano ah, mi potrebbe anche rubare un iscritto, cioè questa è una cavolata di quelle potenti proprio a raffica, perché è una cosa stupida. E lì penso che molte ragazze che fanno video, molti ragazzi che fanno video, hanno un neurone, uno o più di uno, stupido nel cervello, che gli fa pensare questa cosa. Io molto spesso nomino chi mi commenta, nomino dove ho visto questo bracciale, io l'ho visto da Tizio Caio e Sempronio, io lo dico, ma non è che lo dico perché ho un doppio fine, tipo quando abbiamo fatto il video di Giulia Cova perché qualcuno ci doveva vedere, no, io lo dico perché mi sembra giusto dirlo e mi sembra anche educato e nel rispetto di un'altra persona che come me sta facendo un video. Molto spesso l'amicizia con Fabiana è iniziata proprio in quella maniera perché ho visto una cosa nel suo canale, nel suo video, l'ho comprata, l'ho ringraziata per quella cosa ed è lì nata un'amicizia. Ad esempio è questa la cosa bella per quanto riguarda queste persone, riallacciare amicizie, confrontarsi quando si fa vedere un prodotto molto spesso mi è stato anche chiesto perché faccio video con persone che hanno meno iscritti di me e quelle veramente non ho nemmeno risposto, ho cancellato anche il commento perché non ne vale nemmeno la pena perché non c'è un modo di risponderti educatamente perché per me è una domanda stupida quindi io molto spesso non rispondo alle domande stupide. Se ti piace un canale, ti piace quello che dice, se ti piace quello che ti fa vedere, o ha 10 iscritti, o ha 4.000 iscritti, o ha 10.000 iscritti, seguila lo stesso. Se ti piace, seguila. Cioè, kiss, ne dai. Che tipo di video ti piace guardare? Makeup. Makeup in assoluto. Io sono forever make up and ever, come dice Fabiana. Io adoro in assoluto il make up in tutte le versioni, quindi io la maggior parte delle cose che guardo è il make up. Adesso mi sono intrafilata in una via senza, veramente, a senso unico per quanto riguarda la cucina perché sono nel gruppo di Telegram dove c'è Laura, Stefano, Irene, Mirella e tutta la settima generazione, come si dice qua in Sicilia, perché adoro tantissimo vedere le loro ricette perché ne sfornano una diversa dall'altra. Poi Laura specialmente fa delle ricette particolari della Sicilia e quindi li guardo con tanto affetto perché mi piacciono. Poi c'è Valentina, che è sempre siciliana, però che abita in Germania. Fa vedere delle specialità. fanno vedere tutti una cosa diversa, tutti una particolarità diversa. Veramente è un gruppo che mi piace tantissimo. Ci sono anche messi altri uomini, quindi prima c'era soltanto Stefanuccio, adesso ci sono altri due uomini e anche loro ricette a go-go. Quindi se vi posso dare un consiglio per quanto riguarda le ricette, per quanto riguarda mangiare bene, alcuni non li conoscevo, ma altri vi voglio segnalare proprio il gruppo di Telegram perché fanno delle ricette al bacio. C'è Francesca che io adoro perché mi fa delle cose che veramente mi fa venire l'acqualina. Poi c'è Marta, poi c'è Alessandra, oddio non voglio dimenticare nessuno, c'è Vincenza, c'è Maria, oddio aiutatemi, Enrico, Domenico, Stefano l'ho detto, Stefano lo nomino spesso perché è il ragazzo della Sardegna che mi ha mandato il pacco, Valentina l'ho detto, Mirella l'ho detto, Daniela e anche Diana che Diana è siciliana, anche lei! Comunque andate a vedere questo gruppo di Telegram se volete vedere delle ricette al bacio. Poi, che tipo di video ti piace fare di più? Allora, di solito mi piace il video di make-up, però mi piace anche farvi vedere i miei acquisti, quella è una cosa che faccio spesso e quindi vi faccio vedere cosa acquisto, perché mi piace, non per vantarmi, ma per farvi vedere cosa acquisto, se avete gli stessi gusti che ho io, perché sono i video che guardo spesso anch'io. Sei contenta di aver aperto un canale? Sì, l'ho aperto un bel po' di anni fa, però ultimamente mi ci sto, diciamo, mi sto confrontando bene con il mio canale, devo dire, perché sto valutando le cose che mi piacciono, quelle che non mi piacciono, e quindi mi sono seduta più comoda, invece prima ero molto più scomoda. Poi, make-up, ti trucchi sempre? No, perché molto spesso io vado da mia mamma, non è che dice, devo prendere soltanto il caffè, quindi sono due passi, non lo faccio spesso, però se devo uscire, tipo la domenica, andavo, tempo che fu, ai centri commerciali, che adesso non ci vado assolutamente, e credo di non andarci nemmeno in futuro, sinceramente, io parlo per me poi, apri di cielo, mi truccavo, quello sì, mi truccavo, quindi non mi trucco sempre, nell'occasione speciale, e nelle uscite più particolari. Cosa non può mancare nel tuo make-up? L'unica cosa che non può mancare nel mio make-up, è qualcosa sulle labbra. Io, anche se sono struccata, ma ho il burro cacao, se sono truccata, devo avere un rossetto, una tinta labbra, assolutamente, perché a me piace, piace proprio evidenziare le mie labbra, perché è una cosa che a me piace. Oltre i miei occhietti, che tutti dicono che sono molto molto belli, che... E' strana questa domanda, perché c'è scritto che tuo di make-up non utilizzi? Che tipo di make-up non utilizzi? Il make-up che non utilizzo, non lo so, sinceramente, che tipo di make-up non utilizzi? Che tipo di make-up non utilizzo? Non faccio dei trucchi abbastanza particolari, perché non li so fare. Poi, usi le ciglia finte? No! Non li sommettere, è una cosa che non sommettere, quindi no. E poi, dicci un make-up look che usi tutti i giorni. Allora, un make-up look che uso tutti i giorni è il... normale, un fondotinta, un ombretto sfumato sulla... sull'occhio, per dare proprio una forma, cioè, avere, diciamo, la palpebra colorata, mascara, cipria e un po' di blush e burro cacao. E va, e vado da mia mamma. Questo è il make-up, diciamo, che utilizzo spesso. io di norma utilizzo quelli nei pot, l'ombretto nel pot, lo prendo, lo sfumo col dito con il pennello e metto il mascara. Già, basta che tipo, ho un colore nella palpebra, per me va bene. Per me va bene così. per quanto riguarda il taggare le persone, io taggo Antonella, dei consigli di Antonella 2, poi taggo, Fabiana sicuramente lo avrà fatto, lo farà di sicuro, perché ovviamente, essendo anche una make-up angels, lo farà. poi voglio taggare Tia, che sarebbe Mattia, del canale, perché è un ragazzo che mi piace tantissimo, e anche in questo taggerò Irene, quindi Erex in the Wonderland. Queste sono le persone che taggerò, e quindi sono molto contenta se farete anche voi questo video. Io per questo video ho finito, vi mando un grossissimo bacio, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Ciao!